Buonasera a tutti e benvenuti ai nostri presenti, così a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo dalla web tv. Ci sarà anche un collegamento di uno dei nostri relatori in remoto, Stefano Purturti, che è il consigliere delegato del Presidente per le strutture internazionali, nonché Presidente di Confassociazioni UK. L'obiettivo del nostro incontro oggi, il motivo per cui noi oggi siamo qui è perché vogliamo presentare ufficialmente la nuova branch che è nata, che è un po' più distante dalle altre, è appunto Confassociazioni Emirati Arabi Uniti, qui con noi è il Presidente Guido Sperzaga, un professionista che ormai vive da tantissimi anni negli Emirati Arabi, ma, e questa è una caratteristica della nostra Confederazione di Confassociazioni, ha origini italiane. Infatti tutti i Presidenti, nonché i componenti del board di Confassociazioni per quanto riguarda la costola estera, abbiamo già eh creato ehm Confassociazioni Spagna, appunto Confassociazioni UK e poi magari dopo il Presidente darà delle anticipazioni su quelli che sono gli sviluppi di Confassociazioni all'estero. Ebbene, dicevo, la caratteristica è che appunto ci sia un legame con l'Italia, un'origine natia o comunque un qualche rapporto molto forte, perché il nostro obiettivo è quello di fare rete in ehm maniera forte, proficua e concreta su tutto quello che è l'identità italiana. Confassociazioni, ecco io sono Adriana Picella, sono il Direttore Generale di Confassociazioni e eh oggi conta 740 organizzazioni, oltre un milione e duecentosessantamila rappresentanti e più di duecentotredicimila imprese. Con l'entrata di Confassociazioni Emirati Arabi Uniti indubbiamente ehm il diciamo il l'implemento è ancora maggiore e soprattutto le attività di sinergia saranno eh notevolmente moltiplicate. Prima di lasciare la parola al ecco facciamo come da scaletta giusto presidente. Voglio ecco prima di lasciare la parola ai nostri relatori voglio ringraziare l'onorevole Simone Billi che ci ha eh ecco accompagnato in questo percorso a cui do il mh l'ok per i saluti iniziali. Grazie onorevole. Grazie mille, complimenti a Confassociazioni, complimenti insomma al suo presidente Angelo Dejana, complimenti Adriana Picella per per l'organizzazione, anche a Stefano Potorti di Confassociazioni UK e buon lavoro a Guido Sperzaga dagli Emirati Arabi e di nuovo in bocca al lupo per questa avventura che inizia oggi con Confassociazioni Emirati Arabi. Di nuovo grazie, buon lavoro e complimenti a tutti. Grazie mille, onorevole e grazie sempre per essere al nostro fianco, per accompagnarci. Allora entriamo subito in ambito internazionale e seguendo la scaletta eh prima di entrare poi nel vivo di quello che è il discorso sugli Emirati Arabi Uniti eh do la parola al presidente di Confassociazioni International che tra l'altro è la prima branch timbro estero eh che è nata in Confassociazioni Gianni Lattanzio. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera anche agli amici che ci seguono attraverso la web tv della Camera. Ringrazio eh l'onorevole Billi per il sostegno a queste iniziative e il presidente Deiana e il direttore di Confassociazioni per il l'impegno che mostrano anche verso questi aspetti più allegati alle dimensioni internazionali. Effettivamente eh il mondo di oggi ha una forte caratterizzazione localistica. Ecco io non sono venuto qui eh ricordo che prima di Expo proprio in questa sede in in questa sala organizzato con l'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti la presentazione di Expo. Poi è stato rimandato ecco c'era pure il presidente come si ricorda quindi e questa sinergia in quel caso era mh su un livello più istituzionale qui eh e il presidente eh interveniva come presidente di Confassociazioni per portare appunto il contributo della società civile, delle imprese, del mondo produttivo a eh questo importante evento internazionale. ecco eh la società mondiale è una società fatta di focus point, di reti, di relazioni, di rapporti eh tra realtà diversificate che si intersegano tra di loro. Ecco c'è sempre più bisogno di una competenza di una competenza trasversale. Gli Emirati Arabi Uniti che sono una realtà composita come dice la parola stessa di vari Emirati eh il più importante eh è è l'Emirato che eh svolge il ruolo di presidente poi c'è l'Emirato che svolge il ruolo di eh capo di premier eh qui Miro svolge il ruolo di premier eccetera ma lasciamo perdere considerazioni eh politiche interne il discorso del dei sistemi di voto, di democrazia in evoluzione. Ecco credo che intessere rapporti come società civile, come imprese con queste realtà del Medio Oriente che hanno voglia di proiettarsi verso un futuro sostenibile, un futuro moderno, un futuro inserito in un piano ampio di rapporti eh culturali aperti con le democrazie occidentali sia molto importante. Per cui faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo primo presidente di ConfAssociazioni Emirati Arabi Uniti e eh un un'antenna importante per ConfAssociazioni ma è anche un'antenna importante per il nostro paese eh perché possiamo avere una presenza organizzata ripeto di eh professionisti e imprese una presenza di persone che si inserisce nel tessuto sociale, culturale e economico del posto e fa da ponte tra eh realtà economiche ma soprattutto anche tra culture. io qui apro una piccola parentesi, non ho preparato un discorso ma dico veramente a voi quello che sento. Mi trovo spesso in contesti internazionali a discutere di rapporti tra paesi, società eccetera. Io credo fermamente che non possiamo prescindere dai discorsi antropologici prima di effettuare considerazioni economiche o altro nei rapporti con questi paesi. Nel reciproco rispetto e nella 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 tensione comune verso la costruzione di un mondo sostenibile è centrato sulla dignità della persona. L'innovazione tecnologica verso la quale questi paesi soprattutto anche gli Emirati Arabi Uniti, la situazione strategica, vari porti disseminati in un'area eh nel Golfo che eh passaggio tra l'Oriente e il Mediterraneo, ecco è una considerazione geopolitica molto importante ehm credo che debba essere preso in considerazione tutti questi aspetti e eh valutare il ruolo importante che questi paesi possono svolgere nell'innovazione tecnologica soprattutto nell'innovazione sulle nuove forme di energia sostenibili anche in considerazione della presenza di un sole molto eh presente tutto tutta la giornata e della capacità di innovazione che ha l'Italia. Ecco dallo scambio culturale, dalla conoscenza dell'altro e della cooperazione scientifica e tecnologica centrata sulla persona si avviano processi di crescita comune e si può avviare, si possono avviare processi di sviluppo non solo per il bene delle nostre imprese, per ehm per i profitti, per l'economia ma anche per la stabilità e la pace del mondo. Quindi auguri eh signor presidente e grazie al presidente Deiana e al direttore Apicella o direttrice, tutte e due, direttore e direttrice per l'impegno con cui eh portate avanti questi discorsi. Grazie. Grazie Presidente Lattanzio. Ecco costruire ponti, costruire ponti è pure quello che facciamo costantemente noi in confassociazioni e questo lo vedremo anche in futuro i nostri ponti dove vogliono arrivare ma arrivare in maniera concreta. E prima di ecco passare la la parola al protagonista della conferenza stampa eh chiamo in collegamento Stefano Potorti, consigliere delegato del Presidente per le strutture internazionali e Presidente di Confassociazione UK. Sei in collegamento? Ecco. Buongiorno a tutti. Presidente buonasera. Benvenuto tra noi. Grazie mille. Anzitutto mi scuso per non essere in presenza ma purtroppo una serie di impegni mi hanno trattenuto su Londra. Vi vedo eh felici, vi vedo sorridenti e e provo invidia a non essere là con voi. Sarò brevissimo anche perché il protagonista di oggi è decisamente il Presidente Sperzaga e a seguire poi il Presidente Dejana. Eh circa due anni fa abbiamo aperto questo canale sul Regno Unito dopo una bella chiacchierata col Presidente Dejana ed è partita questa avventura che sta crescendo bene. Vedere sempre di più l'estero prendere piede all'interno di Confassociazioni eh non può che farmi piacere perché è una realtà eh che crede nelle persone eh e partendo da quello che è stato detto prima faccio solo un commento sulla tecnologia. La tecnologia è un mezzo che deve migliorare le nostre vite ma rimane pur sempre un mezzo. Eh le persone continueranno a essere il punto fondamentale del futuro di ognuno di noi e quindi vedere persone come Guido che aderiscono a questa iniziativa e che ci consentiranno di aprire un mercato importantissimo avendo eh in primis nella sua persona un riferimento di cui ci si può fidare perché il trust, la fiducia diventerà sempre più importante in questo mondo che va a veloce ma dove spesso ci si ferma in superficie senza approfondire cosa c'è dietro le quinte. Quindi crescere con persone di spessore come come Guido eh ci dà la tranquillità di poter far sì che il network si espanda sempre di più eh con la tranquillità di poter interagire con persone valide. Quindi ringrazio di nuovo il Presidente Dejana per questa opportunità che ci ha dato due anni fa eh Adriana Picella per tutto il supporto che quotidianamente ci dà nella nella crescita di tutti i presenti e da ultimo l'onorevole Simone Billi che eh da da sempre ci supporta fin dal giorno uno in bocca al lupo a te Guido sono sicuro che farei eh farai faremo bene e ci sentiremo presto insomma per le varie attività. Grazie a tutti. Grazie Grazie Presidente e un saluto a Londra a questo punto. Ecco adesso è arrivato il momento il momento di Confassociazioni Emirati Arabi Uniti che ricordo abbiamo già annunciato ufficiosamente con un comunicato il quattordici dicembre dello scorso anno cioè del venti ventidue il giorno prima del grande nostro evento di Confassociazioni che ci ha visto tutti quanti impegnati e uniti in una giornata molto intensa iniziata proprio nella nuova aula dei gruppi parlamentari al mattino e terminata con un passaggio nel pomeriggio al Senato a Palazzo Ferraioli. Ma vando alle ciance eh speriamo ecco che i nostri presidenti esteri possano essere nei nostri eventi successivi ospiti fisici ecco che siano anche loro con noi così da vivere appieno quella che è la forza di Confassociazioni. Lascio la parola al Presidente di Confassociazioni Emirati Arabi Uniti Guido Sperzaga e grazie per essere venuto in Italia. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie all'Onorevole, grazie al Presidente Angelo Deiana per il supporto e grazie alla direttrice per tutto l'aiuto che ci è stato dato ma anche a chi ci segue da lontano al Presidente UK Stefano Potorti che è sempre stato una spalla forte come consigli e come punto di riferimento soprattutto nella fase iniziale e come una persona che ha già avuto l'opportunità di fare tante esperienze portando dietro un nome importante come Confassociazioni e essendo un po' il primo se non ricordo male anche che è riuscito a portare all'estero una grande entità che rappresenta all'estero e soprattutto in Italia una serie di competenze che come si accennava prima è sempre più indispensabile e importante proporre sia nel mercato straniero sia nel mercato italiano. Per fare la differenza è quanto mai diventato importante, si parlava prima di ponti, il Presidente appunto accennava quanto è importante il discorso di ricreare ponti e relazioni all'interno di tutte queste realtà e gli Emirati Arabi credo che siano tuttora un punto di riferimento soprattutto credo che il momento in cui si è deciso di esplorare e di andare ad ampliare la rete su quest'area geografica è quanto mai perfetto perché gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il punto di riferimento sia per vari motivi come si accennava la posizione geografica e non solo è un po' di fatto il crocevia tra Europa, Asia e Asia soprattutto, i mercati molto emergenti al giorno d'oggi e di sicuro le competenze. Le competenze perché gli Emirati Arabi Uniti sono sicuramente un paese che è sempre aperto e molto supportive, molto d'aiuto per quelli che sono le personalità, le competenze sia che arrivano dall'estero ma loro stessi sono un esempio da prendere come riferimento perché riescono veramente a fare delle cose che solitamente necessitano periodi di tempi molto più lunghi e loro hanno la capacità e la visione soprattutto di vedere non a breve termine ma a lungo termine, esistono piani governativi molto solidi sia a breve termine, quindi si parla del 2030 ma già si guarda al 2050 addirittura fino al 2071. Quindi questo dà stabilità sia agli investitori ed è uno dei motivi perché di recente c'è stata veramente un'esplosione, un interesse verso l'area geografica soprattutto verso gli Emirati per questo motivo, sia per la stabilità sia per una serie di vantaggi non solo a livello di tassazione ma anche a livello di sicurezza. Infatti è uno dei primi paesi che vanta, che si può vantare di avere un livello di sicurezza veramente alto e tutte queste cose messe insieme sono di sicuro un punto di riferimento e un'attrazione sia per gli investitori ma anche per le persone fisiche che decidono e vogliono spostarsi verso quest'area. Quindi io ringrazio ancora il Presidente, ringrazio la Direttrice e tutti i Presidenti che ci supportano e restiamo a disposizione sia per dare tutto il nostro supporto per qualsiasi tipo di operazione se necessaria non solo negli Emirati ma anche verso i paesi verso l'Asia che di fatto poi fanno un po' a capo essendo un po' Dubai nel mezzo e al tempo stesso sarà nostra premura indirizzare verso gli altri paesi tutte quelle entità che per vari motivi vogliono comunque proporre il loro business all'interno di queste realtà. Grazie di nuovo e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Presidente Sperzaga. Chiamo a chiudere il cerchio con tutte le considerazioni il nostro Presidente di Confassociazioni Angelo Dejana. Grazie, grazie a tutti, grazie a chi è qui con noi, grazie a chi è collegato. Vedete, io sono emotivamente coinvolto perché sono particolarmente orgoglioso non solo della presenza qui di Guido Sperzaga, Presidente di Emirati Arabi Uniti, ma perché questo è un mondo in cui, lo ricordava il Presidente Lattanzio, si devono costruire legami, si devono costruire ponti anche sul piano antropologico e questo è uno degli obiettivi con cui è nata e si è sviluppata Confassociazioni. Confassociazioni nasce, questo è l'anno del decennale, il 2 luglio del 2013, aveva 42 associazioni e circa 50.000 iscritti, adesso lo ricordava la dottoressa Apicella, ha 740 associazioni in un conto che è stato fatto un mese fa, sono arrivate tante altre, 1.260.000 iscritti, 213.000 imprese, non tanto grandi, 5,3 dipendenti medi, ma se contiamo che la media italiana è 3,9, per noi che veniamo come nascita dai servizi professionali, insomma, e non abbiamo quindi, se non nell'ultimo periodo acquisito, grandi imprese manifatturiere, chiaro che è una dimensione media comunque rispettabile. E però questi numeri, questi numeri importanti, di cui bisogna rendere merito a tutte le persone che sono qui, al direttore Adriana Apicella, a tutta la struttura e anche a tutto l'ufficio di presidenza di Confassociazioni, Riccardo Alemanno, vicepresidente vicario, Franco Pagani, vicepresidente vicario giunto, Federica De Pasquale, vicepresidente, con delega le varie opportunità e a tutte le 27, i 27 branch verticali di Confassociazioni e le 23 territoriali. Cioè questo è un sistema che per essere governato, essendo fra l'altro no profit, ha bisogno di persone di buona volontà, che hanno creato e costruito quel legame antropologico di cui parlava il presidente Lattanzio in Italia. E però questi numeri nel contempo sono un problema. Tanta crescita, tanto veloce, in un sistema, ve lo dico da economista, che ha 1500 associazioni in Italia e noi ne abbiamo già più di 740, quindi siamo quasi a una quota del 50%, un mercato maturo. Quanto ulteriormente si poteva crescere? E allora sulla base di una chiacchierata che ci siamo fatti, lo ricordava prima Stefano Podorti, proprio con lui, è nato questo progetto internazionale, è nato questa idea di esportare i valori fondanti di confassociazioni, quindi fare comunità, fare comunità di business, aiutare tutti i professionisti, anche le associazioni che hanno, avendo dimensioni più piccole, sono più fragili, metterle insieme, mettergli a disposizione una struttura e una massa critica, quella che noi possiamo assicurare, e provare a farlo pure da un'altra parte. Provare a farlo, abbiamo fatto con un successo strepitoso in UK, l'abbiamo fatto, è stata lanciata il 19 gennaio dell'anno scorso in Spagna, con una qualità di persone che veramente rende onore, non tanto confassociazioni, ma tutti noi, veramente dello spessore delle persone che hanno voluto aderire a questa iniziativa. E adesso proseguiamo con Guido Sperzache ed Emirati Arabi Uniti. Vedete, gli Emirati, lo ricordava Guido, lo ricordava sempre il Presidente Lattanzio, sono una specie di crocevia in questo momento, al centro di una serie di rotte, al di là della Via della Seta, che vedono, da una parte, lo ricordava Guido, un pezzo di Asia, Cina, India e penisola del sud-est asiatico, che ha più persone di tutto il resto del mondo. Cioè, in quel territorio ci sono più persone che in tutto il resto del mondo. E quindi è chiaro, siccome la demografia è potere, che quello è un sistema di mercato, sia che lo fai come mercato, lo usi come mercato del lavoro, sia che lo usi come mercato di sbocco, straordinariamente importante. Ma gli Emirati non stanno soltanto affacciati sull'Asia, sono anche vicinissimi all'Africa. E l'Africa è un altro pezzo significativo, strategico, del mondo globalizzato che verrà. Perché sono quelli più giovani, perché sono quelli che avranno la crescita demografica più rapida, hanno una quantità inesplorata di situazioni economiche, piuttosto che di materie prime, nonostante qualche, diciamo così, primo grande passo da parte di grandi competitor come la Cina e la Russia, ma comunque c'è veramente un mondo enorme da esplorare. Un mondo che è sempre più interdipendente, e lo dimostrano le vicende dell'ultimo anno, un mondo che è sempre più veloce, lo ricordava Guido, un mondo che ha bisogno di creare ponti, ma ponti solidi. E il ponte solido si costruisce sul trust, lo ricordava Stefano Potortisi, costruisce sullo scambio, in resi bisogna scambiare. E lo scambiare non vuol dire solo prendere, vuol dire anche dare. Questo è il pezzo del nostro DNA, questo è un pezzo del DNA di ConfAssociazioni, ed è per questo che noi, dopo Emirati Arabi Uniti, che in questo momento è il protagonista, abbiamo già un piano di espansione. Anche noi, come gli Emirati, cerchiamo di pensare a lungo termine. Non siamo ancora arrivati al 2071, ma cerchiamo di fare del nostro meglio. Quali sono i progetti di espansione di ConfAssociazioni International? Abbiamo già consolidato. UK, Spagna ed Emirati Arabi Uniti. Abbiamo qui presenti due presidenti che hanno una delega allo sviluppo, Carmelo Cutuli, presidente di ConfAssociazioni USA e l'avvocato Paolo Quattrocchi, presidente di ConfAssociazioni Canada. Nei prossimi mesi, questi sono i nostri focus. ma non abbiamo finito. Abbiamo seminato, stiamo seminando anche per fare Svizzera, Francia e, con qualche fatica in più, Repubblica Ceca e Polonia. E quindi, da questo che mi dimenticavo, è Slovenia. Bravissimo. E quindi vedete che questo percorso rende merito proprio di quell'interdipendenza di cui vi parlavo. Chi mi conosce sa che ho scritto un libro nel 2014 che si chiamava La Rivoluzione Perfetta all'era dell'interdipendenza e della velocità. Quindi ci credo. Non è soltanto un prendere atto di quello che sta succedendo. Perché per fare rete devi fare quello. Per fare rete devi costruire ponti. D'altra parte abbiamo maestri millenari, come per esempio la Chiesa Cattolica, che l'hanno già fatto. Quindi non è che ci inventiamo niente di nuovo. Siamo nani sulle spalle di giganti, come diceva Pascal. E questo però ci deve dare la spinta per A. Approfondire ancora di più le competenze e portarle sui diversi mercati internazionali. B. Fare sicuramente il dialogo Italia-Emirati, Italia-UK, Italia-Canada, USA-Italia-Spagna, ma farle anche dialogare Spagna con Canada, USA con Emirati, Slovenia con Francia e via dicendo. Tant'è vero che con il presidente Podorti abbiamo già ipotizzato di fare una sorta di protocollo di intesa fra tutti i nostri branch esteri proprio per scambiare competenze, riferimenti, networking, business, persone. E questo è un tema in cui crediamo talmente tanto che proviamo a metterci anche una base culturale, quel famoso legame antropologico. Alla fine di febbraio uscirà un nuovo libro destinato ai mercati internazionali che si chiama The World to Come, il mondo che verrà, che abbiamo scritto con il presidente Cthulhu in inglese proprio perché supporta lo sviluppo di confassociazione a livello internazionale e studia, prova a studiare, prova ad analizzare, prova a sviluppare i trend e le sfide di questa nuova globalizzazione di cui siamo da una parte protagonisti attivi, dall'altra passivi che viene dopo la pandemia e dopo e durante la guerra in Ucraina. Quindi una nuova globalizzazione. Non esiste più la globalizzazione vecchia, quella solo mercantile. C'è una nuova globalizzazione che va analizzata perché va costruito un modello in cui ci siano almeno due cose e vado a concludere. A. Diversificazione del rischio. Noi nella precedente globalizzazione non diversificavamo. Avevamo un unico fornitore principale di materie prime lato energia. Avevamo una serie di connessioni penso alla fabbrica del mondo, alla Cina che ogni tanto non funzionano e tutti gli attriti sulla catena della supply chain della logistica mondiale sono quelli che hanno generato una parte significativa anche della nostra inflazione. Avevamo una capacità di gestione del rischio scarsa. Perché se non c'è diversificazione e se non si valutano i rischi cioè a fronte di un fornitore non ce n'abbiamo uno da piano B è chiaro che tutti gli effetti si ribaltano negativamente. E questo ci deve insegnare qualcosa. Ci deve insegnare è un nostro hashtag noi lo usiamo in Italia per cui ci definiamo azionisti del paese forse con questa operazione Emirati Arabi Uniti oggi in precedenza UK e Spagna in futuro Canada USA Slovenia Svizzera Francia e chi più ne metta un mondo in cui siamo azionisti del mondo perché il problema è che per fare questa tipologia di ragionamento bisogna investire bisogna dare come vi dicevo prima non bisogna soltanto prendere non bisogna soltanto fare business bisogna esportare business bisogna esportare competenze ma anche valori ed è per questo che io ringrazio veramente tutti quanti in particolare Guido Sperzaga si è preso quest'onere importante di fare da punto di riferimento di costruire la nostra missione negli Emirati Arabi Arabi Uniti e credo che un pezzo di futuro di confassociazioni di questo paese e un quota parte anche del mondo che verrà a proposito del titolo del libro in uscita alla fine di febbraio scritto da me e da Carmelo Cotuli sia legato proprio a questo e cioè noi dobbiamo correre come diciamo sempre secondo il principio della staffetta si corre con i primi senza dimenticare gli altri perché tanto se gli altri fanno parte della tua staffetta e della tua rete non li vuoi lasciare indietro grazie bene dopo le parole del presidente Angelo Dejana che ringrazio a nome di tutti quanti presenti qui e chi ci sta guardando dalla TV della Camera posso soltanto ringraziare i nostri relatori e aspettarvi al prossimo appuntamento in bocca al lupo avanti tutta e azionisti sempre grazie e buona giornata grazie